Ok, allora stiamo col margine. Felicissimo. Sì, sono molto contento soprattutto per la Minardi. Onestamente tutti i ragazzi, tutti, da Gustav Bruno e Rumi fino all'ultimo, sono tutti molto bravi. È un punto che loro meritavano. Io ho guidato la macchina il meglio che ho potuto, ma davvero full credit per la squadra. È un po' poco dire il meglio che ho potuto perché tutti i grandi hanno sbagliato. Sì, era molto duro perché dovevi abituarti alle condizioni cambianti. E non solo questo, la squadra è stata molto brava anche con la strategia delle gomme perché ci ha mostrato con le slick quando dovevamo stare con le slick. E qui anche ha stato Fiorio che è stato molto bravo. Lui l'esperienza credo che ha pagato. E per questo, perché ho visto tante volte Irvine con le rain quando doveva essere con le slick, è stato qua dove noi abbiamo riuscito a avere il punto.